La settimana scorsa, dopo averlo chiesto ripetutamente, sono riuscita ad avere i documenti riguardanti SPES. Ricordate? SPES è stata un'analisi commissionata all'Istituto Zooprofilattico dalla Regione Campania. Lo scopo era quella di evidenziare la presenza di metalli pesanti all'interno del sangue dei campani. I documenti che abbiamo avuto sono in inglese e naturalmente sono talmente tecnici che vanno elaborati e ben letti, cosa che stiamo facendo, e questa lettura più i dati che vengono dall'Atalante di mortalità della Campania insieme ai dati sentieri verranno elaborati grazie alla professionalità e alla disponibilità dei medici per l'ambiente. Tra qualche giorno, diciamo tra qualche settimana, avremo la possibilità di capire realmente come lo stato di salute dei campani, onde evitare che ogni volta si chiedano nuovi dati e si chiedano nuove analisi senza mai analizzare i precedenti. Sembra quasi che per non affrontare il problema si chieda sempre e si presenti la necessità di avere nuovi dati. I dati ci sono, sono tanti, sono costati anche molti soldi, è arrivato il momento di leggerli e comprendere quali comportamenti la regione campania, i comuni devono adottare per restituire quella qualità della vita che in molte zone della campania ormai abbiamo perso.